Una collaborazione speciale che ha dato vita a una scuola speciale grazie a un gruppo di genitori e insegnanti, mamme, papà, nonni, che si sono dedicati a dipingere la scuola dell'infanzia Cesari di Chieti con oltre 80 alunni, creando un ambiente colorato e stimolante per i bimbi dei 3 ai 6 anni. Oggi il taglio del nastro per l'evento che ha visto alla partecipazione del dirigente scolastico del comprensivo 1 di Chieti, Simona Di Salvatore, tra gli altri oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali e naturalmente delle famiglie coinvolte. In un gesto simbolico i bambini hanno riconsegnato le chiavi della scuola alla città, segno di un ritorno in uno spazio che ora rappresenta molto più di una semplice struttura educativa. Inoltre è stata presentata la biblioteca dedicata al piccolo Federico, ex alunno della scuola Cesari prematuramente scomparso. I genitori Nicola e Gabriella hanno raccolto il desiderio del piccolo Federico donare libri e non solo ai suoi compagni. Ascoltiamo la dirigente scolastica. L'aspetto fondamentale è quello di sottolineare l'importanza della comunità, quindi della sinergia tra scuola e famiglia, in un progetto didattico che sia ampiamente condiviso. Questa è la realizzazione più evidente, più eclatante, perché i genitori in questo caso hanno contribuito fattivamente durante i mesi estivi nella riqualificazione di tutti questi spazi e nel rendere la scuola dell'infanzia ancora più fruibile nei suoi laboratori per gli alunni più piccoli. Noi siamo il mondo, dietro di lei un titolo che la dice lunga. Assolutamente sì. Noi siamo il mondo e lo possiamo costruire e migliorare solo se lavoriamo insieme. Assolutamente sì. Questo è il messaggio che la scuola deve dare ogni giorno ai propri alunni e che deve infondere anche quasi come se fossero osmosi, attraverso l'esempio dei più grandi. Siamo con Gabriella e Nicola. Voi avete fatto un dono speciale all'insegna di Federico, vostro figlio, che non c'è più, ma comunque c'è, soprattutto all'interno di questa scuola. Sì, Federico ha sempre frequentato con gioia questa scuola e in questo ambiente ha creato dei legami molto forti, sia con le maestre, sia con i suoi compagni. E quindi poi è stata una sua volontà, un suo desiderio donare le sue cose a questa scuola. Da lì poi è nata questa biblioteca, grazie al contributo della dirigente, di tutto il personale scolastico che ci ha appoggiato. E poi nel tempo si è creato questo laboratorio di lettura, questo progetto bellissimo per i bambini, i quali mi danno molto e mi insegnano molto ad ogni incontro.